Il Paradiso 8, spoiler sul cast, Gemma e Veronica, in dubbio Stefania. L'ottava stagione del Paradiso delle Signore aprirà i battenti nel mese di settembre su Rai 1 e sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni sul cast del prossimo capitolo della soap opera rivelano che i volti storici come Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, la Contessa dell'Aidea di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina, e il banchiere Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, saranno confermati. I fan, inoltre, potranno continuare a seguire le dinamiche legate ai personaggi di Maria Puglisi, Chiara Russo, Marcello Barbieri, Pietro Masotti, Irene Cipriani, Francesca Del Fa, e Alfredo Perico, Gabriele Anagni. Fresche di conferma anche Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, e mamma Veronica, Valentina Bartolo. Mentre rimane ancora in bilico la presenza di Stefania Colombo, Gras Ambrose. Nonostante il parziale restyling caratteriale di Gemma nella stagione del Paradiso delle Signore appena conclusasi, il personaggio della giovane Zanatta risulta ancora difficile da digerire per la maggior parte dei telespettatori, i quali non avrebbero dimenticato le malefatte messe in opera dalla ragazza nei capitoli precedenti. La cavallerizza, però, avrà buone chance di rimanere centrale nelle dinamiche dell'ottava stagione della Fiction Daily. Sia per la sua gravidanza che per il prossimo matrimonio che la dovrebbe vedere protagonista. Sebbene non si sappia ancora se sposerà Roberto Landi, Filippo Scarafia, o Marco di Santerasmo, Moise Curia. Per questi motivi è arrivata la conferma dell'attrice Gaia Bavaro nel Paradiso delle Signore Otto. Discorso differente per Veronica che, dopo essere stata lasciata dall'oramai ex compagno Ezio, Massimo Poggio, dovrà ritagliarsi un ruolo diverso da quello al quale i fan sono stati abituati senora. Magari meditando vendetta verso l'ex partner e la rivale amorosa Gloria Moro, Lara Comar. Gli affezionati della sua apideata da Gianna Andrea Pecorelli ricorderanno tutte le evoluzioni dei personaggi che li hanno accompagnati sin dagli albori della serie. I cosiddetti volti storici come Umberto, Adelaide e Vittorio che saranno presenti anche nella prossima stagione. Era difficile pensare il contrario, visto che ancora in ballo ci saranno probabilmente il segreto della Contessa ma anche la concorrenza tra il Paradiso delle Signore e Galleria Milano Moda. Confermata anche la coppia composta da Irene e Alfredo, così come Marcello e la nuova stilista Maria. In bilico la presenza di Stefania che sembrerebbe legata a sfretto giro all'eventuale reintegro nel cast di Federico Cattaneo, Alessandro Fella.